Grazie a tutti. Brava! Grazie, bravo! Brava! Ok 25 Preneti a parte della guerra Osinsa Indiportina Bitramissi Odio Subito a parte da Osinsa Bitramissi fed tori Bitramissi Glenda A parte per la guerra o sin sa La guerra Bitramissi No, no. La parte è Angelica Domenica, la prima missa Jessica, Lovacis Diasa, su Canario per favore, Lovacis Angelico, Lovacis Diasa, Angelica Domenica, Angelica Domenica, Lovacis Diasa, su Canario. bravo amici bravo amici bravo amici bravissima amici bravo amici bravo amici Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.